La legenda dice che uno spettro muore solo se il suo cuore nero viene trafitto. La legenda dice che uno spettro muore solo se il suo cuore nero viene trafitto. La legenda dice che uno spettro muore solo se il suo cuore nero viene trafitto. La legenda dice che uno spettro muore solo se il suo cuore nero viene trafitto. Mi brucerò! Prisic! Non è niente. Tutta la Gaesia si inchinerà davanti a me. Avresti dovuto accettare la mia offerta, ragazzo. Assaggia le mie fiamme! E ora che assaggi il fuoco del drago, bestia! Ora pagherai il prezzo più alto. Notevole, ma le tue abilità non ti salveranno. Eragorn, magia nera! Ioli! Ti brucerò! Questa volta non avrò pietà, cavagliele. Assaggia le mie fiamme! Breezing! Presto raggiungerai Brom, contadinello. Presto raggiungerai Brom, contadinello. E ora che assaggi il fuoco del drago, bestia! Oggi morirai comunque. Ora morirai, cavaliere dei draghi. Provaci un'altra volta. Sire di un'altra volta. Si non ho. Si, piacciona le mie. Sire di un'altra volta. Sire di un'altra, ne? Solo assaggiungerai Brom, non c'è nato la mia offerta. Sire di un'altra volta. Oggi è un'altra. Sconfitto lo spettro, Arya partì per preparare il suo popolo alla vendetta di Galbatorix. Lei ed Aragorn avevano un destino comune, un dovere da compiere. Ma già la leggenda di Aragorn, il grande ammazza spettri, aveva cominciato a diffondersi in Alagaesia. I Varden, di cui io, Pajiat, sono il capo, non dimenticheranno mai il loro debito verso Saphira, la possente dragonessa, ed Aragorn, il suo coraggioso cavaliere. Aragorn. 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 Aragorn.